Gente, vi ricordate quando vi ho detto che potrebbe esserci un sequel di Juniors? Perché l'avevo detto? Perché alla fine c'era scritto hanno speso una piccola fortuna per questo animatronic Senza dirci quali Ora, in realtà La, questo sequel già c'è Ed anzi, abbiamo proprio qui Con anche citazione, hanno speso una piccola fortuna per questi nuovi animatronic Di cartone Ciao a tutti che in cui siate, oggi siamo su Juniors con queste nuove notti particolari E forse il volume è troppo alto, abbassiamolo Fermi tutti, c'è un piccolo tip qua, prima della notte Rimastered Wilbur Rimastered Wilbur è un personaggio da un gioco fallito Quindi Wilbur cercherà di installare un virus Distruggerà il nostro conveyor e lo romperà Quindi non potremmo più chiamare animatronic Bufford Box è un personaggio non canonico Si nasconderà randomicamente nell'ufficio E perderà lentamente stabilità Clicca su Bufford per mandarlo via Proviamo! Riaperto e non canonico Suniors Questo si chiama Suniors Interessante Ok È notte normale? Eh? Che cavolo è? Via Via Ok, è una normalissima notte Urca Più altri due tizi Ah Ecco, sarà complicato Vi vediamo un attimo Cavolo, non ho chiamato Freddy all'inizio Questo potrebbe essere un problema Vabbè Facciamo lo stesso Proviamo Adesso mi ammazza perché è Freddy Immaginate? Probabile Con la mia fortuna Qui c'è una mano grossa quanto una casa però Ma Freddy è arrivato? No Come no? Tu chi? Ok Va bene Ma Freddy Scusi Scusi buon uomo Me l'ha rotto Fine Quindi tutto Abbiamo perso Grande Vediamo se Cica ne lascia una Non penso Attenzione Ce n'è un'altra Mi sa che è Cica È al 19 sono Pam Ok 15 Tu stai scherzando Tu stai scherzando Qui No vabbè Sì Non è Non è vero No Sto scherzando Scusi Io come faccio a mandare via questo signore? Non posso ormai perché me l'ha creato Lo so Però Di nuovo Cica era Wow Allora Questo signore qua Come funziona? Ok Qui Via Chiudi ad Ok Compare a caso un ad E io devo chiuderlo Cica C'era Cica Chiudi Chiudi Di nuovo Non era Cica Intanto Balloon Boy qua Chiudi Aspetto chiamiamo Cica Che è Bassissima No Un sacco di ad È pieno di mani Ah Era Foxy Oltre a questa notte terrificante C'è la Custom Night Andiamo qua Vedetti del passato Tutti a 12 Vedo Task 6 Proviamo Vediamo che cosa cambia C'è il 12 Che cosa dovrebbe cambiare? La frequenza Non cambia niente il 12 Chiamiamo subito Freddy E iniziamo Eccole qua C'è sia Freddy che il Puppet Aspettiamo che uno dei due se ne vada Puppet Perché Freddy se n'è andato Ma ancora Lampeggia Pam Fatto Ecco Qua si muove Quindi è o Cica o Freddy Qua si muove C'è sia Freddy che Cica Ovviamente Qui c'è Freddy E non c'è più Freddy Ma porca miseria Ecco Qui c'è Cica E non sta succedendo niente È Freddy Fantastico Devo essere veloce stavolta Perché Bonnie e Cica Sono messi male E la telecamera si muove Credo sia il Puppet Perché Freddy Era Era poco fa Sì è il Puppet Ma Freddy L'ho riparato poco fa Allora di solito come funziona Che magari non ve l'ho mai spiegato Non me lo ricordo Quando tu chiami un animatronic Inizi già a chiamarlo Non può essere lui l'animatronic posseduto Io forse l'avevo riparato troppo presto Però Non penso Si muove La telecamera Mi sa che è Freddy Perché Cica l'ho vista più volte Già e non era successo niente Ok Cica Se n'è andata E si muove Freddy Qui c'è Foxy Devo stare veloce Devo riparare il Puppet 27 27 Ok non era Freddy Meno male Qui chi è messo peggio Balloon Bon No Bonny è messo malissimo Bonny è messo malissimo Devo rischiare Devo rischiare Devo chiamare Bonny Per forza Tanto Se non mi uccide perché è posseduto Mi uccide perché non c'è tempo di chiamarlo Quindi Non era Bonny Non era Bonny Ok Perfetto 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 Cica è messa male anche però Vattene E fammi vedere se c'è una mano o qualcosa Vattene per favore Ok Cica Se n'è andata c'è una mano Cica Ok chiamiamo subito C'è Foxy Vediamo se fa qualche E qua la telecamera si muove Quindi ho Foxy e Bonny Lascio ferma E no è Foxy E io lo stavo per chiamare Ha Fantastico Il fantasma è arrivato E Puppet è messo malino Però le luci lampeggiano E c'è solo Cica qua E allora Cica per forza Fantastico Fine Ora Che succede? Che cosa succede una volta finita Una notte della custom night? Assolutamente niente Compare la stellina qui Oh porca miseria L'atto finale Tutti al 2035 task Col cavolo Con questo qui Task 5 Tutti al 5 Strano Facciamo questa Al 5 Tutti al 5 Facile facile Fantasma è arrivato E non è Balloon Boy Ah E già Si inizia male Con una bella connessione persa Nella zona centrale Tra l'altro Comunque il puppet non è Perché è qui Bello tranquillo Freddy non è Ora qua è libero E ovviamente Non c'è nessuno Cica è ancora sul palco Quindi Cica è a posto Quindi è tra Bonnie Bonnie perché è l'unico Che è rimasto fuori Fantastico La telecamera si muove Quindi o puppet o Freddy E Freddy Però dato che so che Freddy nel frattempo chiamo Cica No Forse in realtà è meglio di no Non lo so Vabbè Freddy Perché volevo cercare di sfruttare il tempo Calmo Però poi ho pensato che anche Freddy si scarica E quindi Non è proprio Che se chiamo subito Bonnie Ok Perfetto Ho sistemato sia Cica che Bonnie Balloon Boy ovviamente no Quindi chiamiamolo no Aspetta Prima voglio vedere se Eeeh come si muove E' Foxy allora Perché c'era solo lui Foxy subito Ah Scarso E' arrivato il fantasma Connessione persa E' Cica Non è puppet Non è Balloon Boy O Foxy O Freddy O Bonnie Qui c'è Foxy Quindi o Freddy O Bonnie Qui c'è Freddy Bonnie Pam Meraviglioso Cavolo il puppet è a 27 Cavolo il puppet è a 27 Anche Foxy ha messo male Ma il puppet è ancora meno Ci ha messo pure peggio Non ci crede E' proprio il puppet E' così Oh Ok Neanche ho dovuto ripararlo Bene Bene Proviamo a farne un'altra Magari questa 7 task Tutti al 5 8 task Tutti al 17 10 task Tutti al 10 15 15 35 No Magari Facciamo questa qui Da 7 Oh porca miseria Già il fantasma è entrato E io ho chiamato Freddy Non so se è prima o dopo Questo è un rischio enorme Puppet E' spuntata la mano Proprio davanti a me Cavolo il fantasma è entrato Appena ho chiamato Bonnie Connessione persa Ok Chica è sul palco Puppet Non è Freddy non è Non era Bonnie Non era Bonnie Meno male Quindi Freddy Puppet Bonnie Ci manca Foxy No? Eh si Foxy per forza Fantastico Telecamera si è mossa Oh Freddy Oh Cica Oh Freddy Oh Quanti sono Cica neanche Oh Foxy O Freddy Chiamo anche Cica Sono ancora qua Ok Freddy Oh finalmente Le luci Sbampeggiano tantissimo Freddy O Puppet Intanto chiamo Foxy C'è solo il Puppet Oppure potrebbe essere Cica Non penso E Bonnie ha messo un po' Maluccio Sono ancora qua Comunque Bonnie non è sicuro Quindi inizio già a chiamarlo No prima Freddy Che è messo ancora peggio E se ne sono andati tutti Nello stesso momento No? E Puppet E Balloon Boy Fermi tutti Prima riparo Questo è Freddy Poi riparo Bonnie La chiamo E basta Ok Gli altri sono messi Piuttosto bene Il Puppet È messo un po' Maluccio Anche Balloon Boy È messo maluccio Però Balloon Boy Si può chiamare Quasi sempre Quindi non importa E lampeggiano le luci C'è solo Foxy Quindi per forza Foxy Ma prima Riparo la gente Che è messa un po' male Dai entra Ok Perfetto Ho riparato tutti Dico che è Foxy E poi lo chiamo Ne manca uno solo Che è già arrivato Ed è Balloon Boy Pam Allora gente Abbiamo fatto Tre custom night Qui Una, due, tre Poi qualche tentativo In questa Ma è complicata Quindi Questa qua Ma è complicata Per questo episodio Mi frego Qua Ditemi se vorreste Vedere le altre notti Della custom night Oppure La notte Quella extra Scrivetemelo qui sotto Nei commenti Oppure mettere un soldaggio Nella sezione community Insomma Vedremo Così da capire Se continuare o meno Juniors Perché ci sono anche Altri fan game Che sono anche Molto carini Da provare Bene Direi che possiamo Anche concludere qua Quindi Noi ci vediamo Ad un prossimo video E ciao Ciao E ciao